In un mondo che cambia, sempre più veloce, interconnesso e interattivo, le soluzioni digitali della BCC di Prato-La Peligna fanno la differenza. È arrivata la nuova app PreviApp, Previo Appuntamento, che ti consentirà con un clic di prenotare un appuntamento in qualsiasi filiale o con il tuo gestore di riferimento. Con PreviApp potrai azzerare i tempi di attesa, scegliere il tuo interlocutore. Finalmente, niente più code. Cosa aspetti? Scarica l'app e risparmia il tuo tempo. App disponibile per smartphone, Android e iOS. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.